Non capisco, mam! Perché gli uccelli vogliono sconfiggere noi animali di terraferma? Non lo so, Smino! Mi fa piacere questa cosa! Lo so, mam! Anche a me! Ma non possiamo arrenderci! Anzi, non dobbiamo arrenderci! Mai! Vabbè, Smino, ma come facciamo a sconfiggere gli uccelli? Mamma, dobbiamo solo capire qual è il loro piano e poi capire come fare per salvare il mondo! Il mondo vuol dire l'isola peristorica? Sì, l'isola peristorica. Gli uccelli non se ne fregano degli altri paesi. Cosa? Ho sentito bene! Noi uccelli vogliamo invadere tutti i posti abitati da animali di terraferma. E così la popolazione del mondo sarà composta soltanto da come animali gli uccelli! Non lo farete mai! Fecca di questo! E adesso mi porto dal mio padrone, il re avvoltoio! Il pappagallo sta tornando e ha con sé due animali, uno smilodonte e un mammut. E li porterà dal mio avvoltoio? Certo! E lui potrà farci quello che vuole! Gli animali peristorici di terraferma non avranno nessuna possibilità contro noi uccelli volanti! Scusa, ma mi dispiace interromperti Cigno, ma io non so volare. Scusa, ma la maggior parte degli uccelli vola, gallina! Ecco gli animali! Siamo pronti per portarli dal grande re avvoltoio! Animali, vi avverto, state per fare una fine orribile!